Una rapina è stata messa a segno intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio qui in questo supermercato, l'AEO di Calcinelli di Saltara. Il rapinatore prima di raggiungere questo supermercato ha rubato un'auto, una panda, la vedete qui parcheggiata, l'ha presa ad una donna minacciandola con un'arma a giocattolo, poi è salito, è arrivato sin qui, ha parcheggiato l'auto e si è diretto nelle casse di questo supermercato, ha praticamente preso le mani, ha bloccato una cassiera. Niente, io mi trovavo in cassa, lavoravo tranquillamente, vedo arrivare questa persona addosso, insomma, una persona che correva verso di me, mi ha preso le mani e mi ha costretto ad aprire la cassa. Come era vestito? Ho visto un giubbotto beige, ho visto una maschera tipo di Halloween, di Scream, del film Scream, quella mi è rimasta impressa perché l'ho visto proprio così. E cos'è riuscito a portare via? È riuscito a portare via qualcosa dal mio collega, il mio collega gli ha dato le banconote più grosse, ma lui ha preso, non si sa perché, dalla cassa le più piccole. Non ha preso le più grosse. Era armato? No, aveva tipo una chiave, un chiavestello. Mentre stava per uscire, uno dei clienti gli ha fatto lo sgambetto, lui ha perso delle banconote, qualcosa si è tenuto, poi si è diretto di nuovo verso il parcheggio ed ha tentato di salire sulla Panda, ma si è sentito braccato e per cui ha deciso di proseguire la fuga a piedi, verso i campi là in fondo.